Niente acqua, niente verde, quasi niente vita. Niente, solo sabbia. È il nostro immaginario del deserto. Invece, inaspettatamente, nella valle della morte, la più profonda depressione della terra, con temperature fino a sfiorare i 60 gradi, un luogo simile ad una pentola sul fuoco, mi è comparso l'inimmaginabile. Tanti bellissimi fiori freschi e non erano miraggi. Poi anche gli altri deserti mi hanno dato la conferma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.